Il giorno d'oggi viviamo in un mondo in cui vediamo alla tv o al cinema o su una piattaforma milioni e milioni di pellicole di animazione, insomma cortometraggi o insomma film in cui il protagonista non è una persona fisica ma un cartone animato. La più grande compagnia che ci ha regalato tutti questi sogni negli ultimi cento anni è la Disney e noi ora ci stiamo chiedendo ma com'è nato tutto ciò? Come si è creata questa compagnia? Qual è stata l'origine di ciò che ci ha regalato tanta gioia? Ebbene oggi sono qua per parlarvi un po' dell'origin story di questa grandissima compagnia. Quindi metteteli comodi, ciao sono Cartanerde, bentornati su Chuck e azione! Dunque partiamo da zero. La Walt Disney Company, comunemente conosciuta come la nostra Disney, è una multinazionale statunitense fondata nel 1923 da Walt Disney e suo fratello Roy con il nome di Disney Brothers Cartoon Studio. Il 16 ottobre del 23 firmarono un contratto con la MJ Winkler Production per la distribuzione delle Alice Comedy, una serie di corti che vedevano una giovane attrice bambina interagire con dei cartoni animati. Nel 1926 fu nominata a The Walt Disney Studios e riservita a produzioni come Felix The Cat e Oswald il Coniglio Fortunato. Arrivati nel 29 invece è preso il nome di Walt Disney Production e, ricordiamoci molto bene, è nato un personaggio che ha risvoltato totalmente tutta la compagnia, sto parlando di Topolino, arrivato nel novembre del 1928. A partire dal 1932 lo studio si imbarcò di un nuovo progetto, ovvero l'uso del colore. La Disney abbandonò la Columbia Picture e Walt ottenne un'esclusiva di tre anni sul processo Tecnicolod creando Fiori e Alberi, il primo cortometraggio a usare questa tecnologia. E nello stesso anno la prima rivista del nostro fantastico Topolino arrivò finalmente in Italia. Nel 1934 Walt iniziò a produrre il suo primo lungometraggio d'animazione, ovvero il grandissimo Biancaneve e Sette Nani. Nello stesso anno uscì anche il corto La Gallinella Saggia, dove apparve per la prima volta il personaggio di Paperino. Parlando del nome effettivo della compagnia, diciamo che assume il nome che noi tutti sappiamo nel 1986 e ha come sede principale a Burbank in California. Però ora iniziamo a scavare un po' a fondo di tutto ciò che riguardano gli anni 40 e poi. Infatti a metà del 1900 per crescere ulteriormente la Disney entrò nel settore del turismo con parchi a tema tra cui Disneyland inaugurato nel 1955 e Walt Disney World Desort nel 1971 e anche nei settori dell'intrattenimento e del merchandising. E sempre dagli anni 50 in poi uscirono anche le pellicole di animazione che noi tutti conosciamo bene, come Peter Pan, Cenerentola, Lily il Vagabondo, La Carica del 101, Mary Poppins, Il Libro della Giunglia, Herbie il Maggiolino, La Spada nella Roccia e così via. Lo studio ha in seguito prodotto film con veri attori e programmi televisivi come Zorro, Splash una sirena a Manhattan, Pretty Woman, L'attimo fuggente e Good Morning Vietnam. Dopo la morte di Walt nel 1966 e di suo fratello nel 71, la società affrontò una crisi soprattutto nel settore dell'animazione che portò nei primi anni 80 a un tentativo di OPA, ovvero offerta pubblica d'acquisto. L'elezione, l'amministratore delegato di Michael Eisner consentì all'azienda, a partire da metà del decennio, di ritornare in redditizia, capitalizzando le proprie produzioni come Disney Channel e Disney Store e ampliando o creando nuovi parchi a tema. Tra i campioni di incassi degli anni 80 abbiamo il film d'animazione La Sirenetta e la pellicola tecnica mista che ha incastrato Roger Rabbit. Negli anni 90 invece arrivarono altri grandi successi come Il Re Leone, Aladdin e La Bella e Dopo il successo di Toy Story nel 1995, nel febbraio del 97 la Disney firmò un accordo con la Pixar per coprodurre 5 film d'animazione completamente in grafica computerizzata. Tuttavia nei primi anni 2000 ci furono vari problemi finanziari, furono vendute così alcune aziende controllate, ma la società ha acquistato altre imprese in vari settori e questo portò la compagnia ad assumere i diritti di altri cataloghi come Baby Einstein, Muppets, Jetix e anche dei grossi marchi come la Pixar nel 2006, la Marvel nel 2009 e la Lucasfilm, quindi tutto l'arco narrativo anche di Star Wars, nel 2012. Nel dicembre del 2017 l'azienda annunciò di voler acquistare l'Imperio di Rupert Murdoch, ovvero la 21 Century Fox, che partendo da un prezzo di 52,4 miliardi di dollari, arrivò a 66 miliardi, incluso tutto il debito. E qualche anno dopo, ovvero nel 2019, la Disney diffuse negli Stati Uniti la piattaforma di Disney Plus, che arrivò anche in tutto il resto del mondo nel marzo del 2020 e che ci sta regalando tuttora tutta una serie di film, serie tv, film d'animazione e quant'altro che veramente i bambini sono diventati strafelicissimi perché hanno una piattaforma tutta per loro. E anche noi millennial, diciamo, dato che siamo comunque cresciuti con Marvel e quant'altro, quindi non ci resta che aspettare e vedere quale prossima mossa la Disney avrà in servo per noi e farci diventare le persone più felici del mondo. Io spero che questa storia di origine della Disney vi abbia incuriosito, che vi sia piaciuta, perché sono comunque arrivato alla conclusione del video, quindi spero di avervi dato un incipit di qualcosa che vi abbia interessato. Io comunque vi ringrazio e fatemi sapere se avete voglia che approfondisca anche personaggi come Topolino o Winnie the Pooh e vi piace magari una storia di origine di qualche personaggio che amate tantissimo. Vi chiedo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Catanerd qui oggi è tutto e noi ci rivediamo presto al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!